Sin dalla comparsa su Netflix nel 2016, Stranger Things si è imposta come serie cult, tanto da essere arrivata alla quarta stagione e aver ottenuto 5 candidature ai Golden Globe e 41 agli Emmy. Con questo quiz scopriremo quanto ne sapete di Undici e dei suoi amici. Questo è il melting top e prima di iniziare vi ricordo che potete sostenerci con un mi piace e iscrivendovi al canale e come al solito fateci sapere come ve la siete cavata con un commento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.